Salve ragazzi, sono Riccardo e adesso vi racconterò una storia. Quando io e il copione scegliamo Jack l'armadio per recitare il ruolo dello specchio nel mio film, ci imbattemo in problemi grossi come i denti di un dinosauro. Jack non capiva le motivazioni del suo personaggio e continuava a riadattare le battute ritenendo che così fossero più spontanee e adatte. Ma quando cambiò la battuta aiuto aiuto mi vuole mangiare con signora le casse dello stereo le inculo io non mi restò altro da fare che dirgli di smetterla e lui disse va bene. L'ultimo giorno di riprese mentre giravamo la scena del bacio tra il figlio e la madre iniziò a nevicare andammo alla finestra e rimanemo sbalorditi dalla bellezza dell'ormai bianco paesaggio, bianco come la neve e i miei denti. Saremmo rimasti tutti amici se non fossero arrivati dei giostrai assetati di sangue per ucciderci tutti e stuprarci. Che carino!